Le borse europee chiudono in rialzo nel giorno della conferma della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea. Il Consiglio Direttivo della BCE ha lasciato i tassi di interesse a zero e ha confermato il termine del quantitative easing per la fine dell'anno. Il Presidente dell'Istituto, Mario Draghi, si è detto fiducioso che il Governo italiano e la Commissione UE troveranno un accordo sulla manovra, ma ha sottolineato che il rendimento dei bond italiani è pericoloso per le banche. Al termine della seduta a Piazza Fari si aggiudica la maglia rosa in Europa con un rialzo dell'1,78%. Sul listino corrono gli industriali con Pirelli, Prismian e FCA. Bene le banche con Mediobanca premiata da una trimestrale migliore delle stime, deboli team Mediaset.